buongiorno sto preparando questo video vlog dopo che non lo facevo da quest'estate quindi è passato un sacco di tempo oggi c'è un grande evento siccome mi trovo a Taranto c'è un grande evento c'è l'evento Man Games quindi ci sono ci sono youtuber e c'è c'è anche un personaggio un ospite d'eccezione c'è Fiore Manni sì c'è Fiore Manni siccome io la adoro quella ragazza devo assolutamente conoscerla scusate ma mi sono appena svegliata sto ancora dormendo sono orribile vabbè uno deve farsi vedere anche i suoi difetti sono felice penso che ci saranno ci sarà Fraus di parliamo di videogiochi poi non ricordo che ci sarà c'è persona che seguo non vedo l'ora di conoscerli almeno di farmi una foto se non parlarci almeno farci una foto cominciamo a prepararci a dopo allora stiamo andando alla massura di toronto si è fatto buio già grazie a tutti 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 grazie a tutti